Eccoce l'entrata in campo, gara di recupero del campionato provinciale categoria giovanissimi, Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa e il Sant'Anna di Chieti con la maglia verde calzettoni bianchi. Capitano, ecco c'è la scelta del campo o del pallone, adesso il direttore di gara, il signor di caro della sezione Aia di Chieti va a controllare la rete di giù, c'è i saluti, qua c'è la panchina. Ok, in bocca al lupo.